38 morti, decine di feriti nella strage di Sus, Tunisia. Un giovane ha sparato contro i turisti in spiaggia, nella piscina di un hotel. Tra le vittime non ci sarebbero italiane nel venerdì di sangue e altri attentati rivendicati dall'ISIS. Nella moschea sciita di Kuwait City, un kamikaze uccide 27 persone in Francia, vicino a Lione. Un terrorista decapita il gestore di una società di trasporti e tenta di far saltare in aria un impianto del gas. In Somalia, miliziani Shebab attaccano una base della forza di pace africana. Almeno 25 caschi blu morti. Delude il vertice di Bruxelles sui migranti. La distribuzione nei diversi paesi europei di 40.000 richiedenti asilo avverranno nei prossimi due anni. Escluse le quote e anche l'obbligo di accoglienza. Un accordo modesto, ha ammesso il presidente Juncker. Per Renzi, invece, è comunque un primo passo. Oggi, alle 14, riunione straordinaria dell'Eurogruppo per trovare un'intesa tra la Grecia e i creditori, evitando così il default di Atene. Ma le parti sono ancora distanti, mentre l'Unione Europea offre alla Grecia aiuti fino a novembre. Il premier Tsipras non accetta e, a sorpresa, annuncia per domenica 5 luglio un referendum tra i greci sulla proposta. Storica sentenza della Corte Suprema Americana. Da ieri il matrimonio gay è legale in tutti gli Stati Uniti. Decisivo il voto di un giudice conservatore nominato dai repubblicani. Gli omosessuali non sono più cittadini di seconda classe. L'America deve essere orgogliosa di questo passo, ha commentato il presidente Obama. 7.31, buongiorno, benvenuti a questa prima edizione del telegiornale della Sette. Apriamo con le ultime dalla Tunisia. Via Twitter è arrivata la rivendicazione del sedicente Stato Islamico dell'attentato che ieri su una spiaggia di Sus ha ucciso 38 persone. Nel tweet si legge che il soldato del califato Abu Yahya al-Quaia Rawani ha raggiunto l'obiettivo e ha ucciso gli infedeli. Intanto il premier SSB ha deciso per la chiusura di almeno un'ottantina di moschee dove si predicava l'odio e la violenza. La maggioranza delle 38 vittime finora accertate erano britannici, tedeschi, belgi, norvegesi, ucraini. Nel lungo elenco che in queste ore le autorità tunisine stanno stirando c'è anche una cittadina irlandese. Smentita invece la notizia che nella sparatoria siano rimasti coinvolti anche cittadini italiani. Ancora una volta dietro la mano sanguinaria e terroristica dell'attacco di ieri contro l'albergo di Sus c'è l'Isis. Accertata anche l'identità del kamikaze che armato di Kalashnikov ieri ha portato alla morte tre turisti. Secondo il site e il sito specializzato nel monitoraggio dell'attività jihadista nella rete il suo nome sarebbe Abu Yahya al-Khawai-Yarawani. Eccolo in questa foto nella quale appare sorridente con indosso una maglietta bianca ed armato di Kalashnikov. La conferma nella rivendicazione è arrivata direttamente anche dal movimento terroristica jihadista che fa capo al califo al Baghdadi. Il nostro fratello, il soldato del califato Abu Yahya al-Khawai-Yarawani ha raggiunto il suo obiettivo l'imperial hotel, malgrado le misure di sicurezza, ed ha attaccato uccidendo 40 infedeli, è scritto in un Twitter attribuito all'Isis. Smentita invece la notizia circolata ieri dell'arresto da parte della polizia tunisina di un secondo aggressore. Per la seconda volta nel giro di pochi mesi dunque la Tunisia deve fare i conti con il terrorismo, una minaccia che si era brutalmente materializzata già nelle sale del Museo del Bardo. Allora le vittime furono 20 e tra di esse anche 4 nostri connazionali. Il governo tunisino, guidato dal Premier, Abib e Sid, intanto cerca di correre ai ripari come può, annunciando la chiusura in tutto il paese di circa 80 moschee, per il timore che proprio da questi centri di predicazione possano arrivare proclami di odio e di incitamento alla violenza. Come sapete è stata una giornata di attacchi e di violenza anche in altri luoghi del mondo. Si è cominciato vicino a Leone dove un uomo ha ucciso, decapitato il suo datore di lavoro e poi ne ha trasportato il corpo in un impianto del gas dove ha tentato di far saltare in aria alcune bombole. In una moschea sciita, Kuwait City, un kamikaze si è fatto saltare in aria durante la preghiera del venerdì del Ramadan. Quindi la moschera piena di gente, ci sono stati 27 morti, quasi 230 di feriti. E per non dimenticare la Somalia dove i miliziani Shebab hanno fatto strage di soldati del Burundi, della Forza di Pace e dell'Unione Africana in una caserma. Il servizio. Tre continenti colpiti quasi simultaneamente. Oltre in Tunisia, la jihad si è scatenata nel venerdì del Ramadan anche in Kuwait, Francia e Somalia. L'azione avvenuta nella penisola arabica è la più inquietante. Contro una moschea sciita a Kuwait City, rivendicata subito dall'ISIS. Un uomo è entrato nella moschea con indosso una cintura esplosiva e si è fatto saltare in aria al grido di Allahe Grande, facendo saltare il tetto dell'edificio. Il bilancio è di 27 morti e 227 feriti. Poi un messaggio in rete. Abbiamo colpito il tempio dei negazionisti. Termini con cui i gruppi sunniti integralisti definiscono i musulmani sciiti considerati eretici. Solo una settimana fa, nello Yemen, altri cinque attentati in simultanea avevano colpito i centri sciiti nella capitale Sanaa. A cinque mesi dalla strage di Parigi, nella redazione di Charlie Hebdo, a 30 chilometri da Lione, un uomo invece ha fatto eruzione a bordo di un'auto in un impianto a gas industriale. Ha sparato su alcune bombole di combustibile per far divampare un incendio, ferendo due persone. Poco dopo, all'interno del complesso industriale, è stato ritrovato un cadavere decapitato, coperto da una bandiera dello Stato Islamico. La testa, a 20 metri dal corpo, è infilzata sulla recinzione del cortile, coperta di scritte in arabo. La vittima è il gestore di una società di trasporti che forniva lo stabilimento. Le autorità francesi hanno arrestato quattro persone. Il presunto attentatore, Yassin Salih, 35 anni, un ex dipendente della vittima. La moglie e la sorella dell'omicidio è un secondo uomo, sospettato di associazione terroristica e criminale. E poi l'attacco in Somalia. Decine di soldati dell'Unione Africana sono rimasti uccisi nella base militare di Lego a 100 chilometri da Mogadiscio per un attacco dei miliziani degli Shebab. L'assalto è cominciato con l'esplosione di un'autobomba, cui ha fatto seguito l'irruzione di uomini armati anche con razzi e granate. Testimoni hanno riferito di aver visto decine di corpi, molti decapitati. L'avamposto era presidato da soldati del Burundi. Gli Shebab hanno preso poi il controllo della base. Ieri nel frattempo c'erano i vertici in Europa, uno dei quali, molto importante, si doveva occupare della questione migranti e rifugiati. Si è concluso con una soluzione di compromesso, si sono creati due schieramenti. Il nostro Premier Matteo Renzi ha parlato di un'Europa poco solidale, però ha detto che abbiamo raggiunto un primo risultato, anche se ci sarà molto da lavorare per superare il trattato di Dublino. Vediamo come è finito questo vertice. Matteo Renzi parla di bicchiere mezzo pieno. Per gli avversari il bicchiere è completamente vuoto. Si è concluso con un sostanziale nulla di fatto, il vertice europeo sull'immigrazione, segnato dallo scontro tra l'Italia da una parte, spalleggiata con diverse gradazioni da Germania e Francia, che chiedeva l'obbligo di accettare la ripartizione dei profughi, e i paesi dell'est dall'altra, Polonia, Ungheria, Repubblica cieca, Estonia, Lituania, che invece volevano mettere nero su bianco la volontarietà dell'accoglienza. Il documento finale, passato ieri alle 3 del mattino, è un compromesso. L'Europa accetta la redistribuzione in due anni di 40.000 donne e uomini, arrivate sulle coste nostre e greche, ma non si parla di obbligo e i criteri della redistribuzione non sono definiti. Non si sa quali paesi accoglieranno i migranti e in che misura. Il tutto resta da definire nei prossimi mesi. Meglio tardi che mai, un primo passo che supera Dublino, rivendica via Twitter il Presidente del Consiglio Italiano, vince l'Europa della solidarietà e perde quella dell'egoismo, si cambia verso. Ma nel corso della trattativa, di fronte alle resistenze del fronte dell'est, Renzi avrebbe alzato la voce. Se questa è la vostra idea d'Europa, tenetevela. O c'è solidarietà o non fateci perdere tempo, sarebbero state le sue parole. Non possiamo farci carico dei vostri fallimenti, avrebbe replicato la Presidente della Lituania. Il risultato del vertice non aiuta certo il governo nel duro confronto interno con i governatori del nord di centro-destra, che dicono no all'arrivo di altri migranti nei loro territori. Altro argomento caldo in questi giorni al centro dei vertici europei, e ce ne sarà anche uno oggi, un eurogruppo oggi, è ovviamente la Grecia. Alla Grecia è stato offerto un nuovo piano che però il Premier Tsipras ha rifiutato, definendolo umiliante e inutile per far ripartire l'economia del suo paese. ha annunciato a sorpresa che questo piano verrà sottoposto al voto degli elettori con un referendum che si terrà il 5 luglio. Arrima nella notte in TV l'annuncio del Premier Tsipras. I greci saranno chiamati alle urne il 5 luglio per votare sì o no alla proposta dei creditori. Sono stato costretto ad indire un referendum, ha spiegato il primo ministro greco, perché l'Eurogruppo ha presentato un ultimatum al paese che è contro i valori europei. Ci hanno chiesto di sopportare pesi insopportabili che avrebbero aggravato la situazione del mercato del lavoro ed aumentato le tasse, ha concluso il Premier. Nonostante le rassicurazioni del governo lunedì non chiuderanno le banche, non ci saranno controlli sui capitali, ha dichiarato il vicepremier Katrugalos, l'annuncio di Tsipras ha scatenato il panico nel paese con i greci in fila ai Bancomat per prelevare denaro. Oggi, alle 14, la riunione dell'Eurogruppo, ultimo appuntamento per cercare un'intesa che, con l'annuncio del referendum, sembra ancora più lontana. Non ha deciso del governo ellenico la proposta dei creditori, giudicata dalla cancelliera Merkel, estremamente vantaggiosa, che prevede l'aumento dei fondi ed il prolungamento del programma in cambio delle riforme volute dall'extroica. Non vedo le ragioni per cui oggi non ci debba essere l'accordo, ha detto il ministro delle finanze Varoufakis, spiegando, abbiamo rifiutato l'ipotesi di un finanziamento ponte della durata di 5 mesi per avere più tempo per le riforme. Il nostro impegno per rimanere nella zona euro è assoluto. Certo è che senza l'ultima tranche di aiuti da oltre 7 miliardi di euro, per la Grecia sarà impossibile restituire il miliardo e 600 milioni che deve al Fondo Monetario Internazionale e sarà la bancarotta. Tornando alle questioni italiane, Matteo Renzi ha firmato l'atto di sospensione del neoeletto presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, lo sapete, in base alla legge Severino. De Luca adesso sicuramente farà ricorso, ma può comunque lavorare alla formazione di una giunta. Nel frattempo è arrivata un'altra tegola giudiziaria per Silvio Berlusconi, è stato richiesto l'accompagnamento coatto dell'ex cavaliere al processo in corso in Puglia, la famosa storia Tarantini e le escort che sarebbero state portate alle cene a casa di Berlusconi. A norma della legge Severino, nella giornata di oggi ho firmato il decreto di sospensione del dottor De Luca da presidente della regione Campania, come previsto dalle norme di legge. Con queste parole il Premier annuncia il provvedimento che ha appena firmato per la sospensione dell'eletto presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. Un adempimento, spiega ancora Renzi, nella conferenza stampa di ieri sera, realizzato dopo aver avuto il nulla a osta del ministro e i pareri. La nostra opinione aggiunge che il presidente della regione Campania possa fare gli atti consentiti dal parere dell'Avvocatura di Stato, ovvero nominare la giunta. È stato un intervento necessario senza fare ricorso ad una norma d'occa. Dunque, Palazzo Chigi esclude l'emanazione di un decreto interpretativo della legge Severino, come pur aveva ipotizzato l'Avvocatura dello Stato, e stabilisce invece la sospensione del neo governatore Campano. Il presidente del Consiglio spiega in che modo è giunto a questa decisione, precisando che l'impegno preso a rispettare la legge Severino è stato perfettamente eseguito, magari anche a sorpresa per alcuni di voi, dice, rivolgendosi ai giornalisti. Sorprese restano anche le opposizioni, che già avevano preventivamente accusato il governo di adottare due pesi e due misure, per quanto riguarda gli effetti della Severino. Il presidente De Luca sostiene inoltre il premier alla possibilità, anzi il dovere, di fare la giunta, ma la valutazione tocca a lui. Mi aspetto il ricorso, come è naturale che sia, avverso a questo atto, perché è sempre andato così. La politica registra un altro caso giudiziario. Il Tribunale Penale di Bari dispone l'accompagnamento coatto di Berlusconi come testimone. Nel capoluogo pugliese si celebra il processo contro Giampaolo Tarantini e altre sei persone per il presunto giro di escort nelle residenze dell'ex premier. Al terzo forfè di Berlusconi, come testimone dal Tribunale, è arrivata la tegola. Parliamo ancora una volta di spese folle e rimborsi elettorali nelle regioni. Questa volta tocca alla Calabria. 31 sono gli indagati, otto le richieste di misure cautelari per un'inchiesta che ha appunto a che fare con i rimborsi elettorali. I rimborsi che vedrete adesso veramente sono state chiesti, i rimborsi per spese di ogni genere, a cominciare dai gratta e vinci. Vediamo il servizio. Il giudice scrive Hanno usato metodi di sfruttamento parassitario. Assessori e consiglieri di tutti i partiti, un'intera giunta travolta, ancora una volta, rimborsi finti, spese pazze, soldi che dovevano essere usati per fare politica, finiti invece nelle tasche dei politici. Questa volta l'inchiesta riguarda la regione Calabria. 31 gli indagati, otto misure cautelari. Il GIP che le ha disposte usa ancora parole durissime. Parla di una gestione gravemente omissiva, di una utilizzazione di fondi pubblici ispirata ad un esercizio tracotante del potere che tradisce anche una sicurezza di impunità. Nell'elenco delle spese non giustificate c'è di tutto. Dai gratte vinci al detersivo. Le accuse sono peculato e falso, in danno della regione, nel triennio 2010-2012. Per il senatore dell'NCD, Giovanni Bilardi, la procura ha chiesto a Palazzo Madama il Via Libera agli arresti domiciliari. Tra i membri dell'attuale giunta Oliverio è finito ai domiciliari Antonino De Gaetano, PD. Accusato di aver usato in modo improprio più di 400.000 euro, si è subito dimesso. In passato era già stato coinvolto in un'altra inchiesta sul voto di scambio. Coinvolti anche l'ex parlamentare di Forza Italia e del PDL Luigi Fedele, i quattro ex consiglieri, Giovanni Nucera, Udc, Pasquale Tripodi, Centro Democratico, Alfonso Dattolo, Udc, Nicola Adamo, PD. E poi l'attuale vicepresidente della giunta, Vincenzo Ciconte, PD, e l'assessore Carlo Guccione, anche lui PD. La Guardia di Finanza ha eseguito 27 provvedimenti di sequestro per più di 2 milioni e mezzo di euro. Adesso andiamo negli Stati Uniti, dove con una storica sentenza della Corte Costituzionale, ieri i matrimoni tra persone dello stesso sesso sono stati dichiarati legittimi in tutti gli Stati. La Casa Bianca si è tinta con i colori della bandiera arcobaleno e un tweet entusiasmante è stato fatto dal Presidente Obama che per questa battaglia si è molto speso. Vediamo. Le nozze sono un diritto costituzionale negli Stati Uniti anche per le coppie omosessuali. Con una sentenza storica, la Corte Suprema Americana ha sancito che il matrimonio fra persone dello stesso sesso si è ammesso in tutti i 50 Stati della Federazione, di fatto imponendo ai 13 Stati che ancora lo vietavano di cambiare le loro leggi sulla materia. Cinque giudici si sono dichiarati favorevoli e quattro contrari. Il voto decisivo è stato quello di Anthony Kennedy, un conservatore nominato dai repubblicani che a sorpresa si è unito al fronte del sì. Una vittoria per Barack Obama che ha commentato sulla pagina Twitter della Casa Bianca in versione arcobaleno oggi è un grande passo nella nostra marcia verso l'uguaglianza e poi l'hashtag love wins, l'amore vince. Dai giardini della Casa Bianca ha poi celebrato la sentenza come una conquista straordinaria. straordinaria. Oggi siamo un'unione migliore, ha detto il Presidente. Negli Stati Uniti sono circa 400.000 le coppie gay sposate nei 37 Stati che lo consentivano, perché finora permettere o meno i matrimoni tra persone omosessuali era rimasta una scelta dei singoli Stati, situazione che aveva però creato incongruenze tra governo centrale e locale e alcuni casi limiti per cui coppie sposate in uno Stato vedevano i loro diritti decadere magari dopo un trasferimento. Situazioni ora sanate dalla decisione della Corte Suprema. Eccoci qui, adesso parliamo come tutte le mattine di calciomercato. Vediamo quali sono le ultime novità. Tutti pazzi per Pogba. Il centrocampista della Juventus ha estimatori in mezza Europa. Il Manchester City mette sul piatto 85 milioni di euro, ma potrebbero non bastare per battere la concorrenza delle grandi di Spagna, Real Madrid e Barcellona. Il club Merengue è pronto a offrire 50 milioni più il fantasista Isco e la definitiva rinuncia a Morata, mentre i catalani, che lascerebbero il francese un altro anno a Torino per il blocco del mercato imposto dalla Federazione Internazionale, puntano sulle elezioni presidenziali per vincere il duello con gli storici rivali. I due candidati alla poltrona, Bartomeu e lo sfidante Laporta, vogliono guadagnare consensi con un colpo ad effetto e mercoledì prossimo è prevista la missione in Italia del direttore sportivo Braida, che cercherà di imprimere alla trattativa l'accelerata decisiva. Il Barcellona intanto lascia partire Montoya, l'esterno difensivo è vicino all'Inter che gli ha proposto un contratto biennale. I nerazzurri pagheranno un milione e mezzo subito, garantendosi un'opzione d'acquisto già fissata a otto. Anche in Boulin si può considerare un giocatore di Mancini. Al Marsiglia andranno 20 milioni, uno per il prestito oneroso e gli altri 19 come riscatto obbligatorio da versare il prossimo anno. Il mediano francese firmerà un quadriennale. Tornando alla Juventus, secondo la stampa spagnola, Vidal sarebbe già stato ceduto a un grande club europeo. Come Bonucci, il cileno piace al Real Madrid, ma secondo gli inglesi in prima fila c'è l'Arsenal, disposto ad investire 30 milioni di euro. L'ufficialità dell'affare dovrebbe arrivare una volta terminata la Coppa America. Infine, dopo aver concluso l'acquisto di Bertolacci dalla Roma per 20 milioni e prolungato con l'olandese De Jong fino al 2018, il Milan stringe i tempi per l'attaccante. Bacca del Siviglia e Luisa Adriano dello Shakhtar Donetsk gli obiettivi rossoneri. E adesso ci occupiamo di basket. C'è il primo storico scudetto della squadra di Sassari, la Dinamo, che ha conquistato il titolo al termine della settima partita di play-off, giocata in casa degli emiliani del Reggio Emilia. Le due squadre, entrambe alla prima esperienza, in una finale scudetta, hanno combattuto fino agli ultimi tre secondi di gara 7 nella serie conclusiva più tesa degli ultimi 15 anni. Sassari, che aveva iniziato malissimo la partita, ha raggiunto e superato i padroni di casa solo nell'ultimo quarto grazie ai punti di Logan. Sanders e Dyson al Reggio Emilia non è abbassato uno straordinario kill polonara per riuscire a sovvertire il risultato per la squadra allenata da Meo Sacchetti e il completamento di uno straordinario triplete dopo la vittoria della Supercoppa e della Coppa Italia. L'informazione continua online su Twitter ma subito dopo Paolo Sottocorona torna Alessandra Sardoni con il dibattito di Omnibus ci ritroviamo domani buona giornata e arrivederci.